San Gregorio Magno, figlio di San Gordiano e Santa Silvia, era un patrizio romano dell'antica Gensa Nicia. Abitava al Clivo Scauri, vicino a Circo Massimo. La vittoria di Giustiniano sui Goti gli permise di intraprendere gli studi giuridici fino a divenire prefetto di Roma. Nel 575 depose l'abito di seta, oro e gemme per il saio monastico, e si ritorò nella casa paterna, trasformata nel monastero di Sant'Andrea sul Celio. Inviato come nunzio pontificio a Costantinopoli, nel 586 fu richiamato a Roma e nominato consigliere di Papa Pelagio II. Eletto Papa nel 587 riformò la musica sacra in Occidente e a lui si deve la conversione di Longobardi e Visigoti in Spagna. Patrono delle miniere, dei cantori, dei musicisti e della musica, è protettore degli studiosi.